Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità la delibera che modifica la governance di funzioni e servizi del Comune di Pesaro all'interno dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo. Un provvedimento che in particolare porterà a riorganizzare i servizi di Polizia Locale che torneranno a essere riassunti in capo al Comune di Pesaro. È una riorganizzazione che riguarda in particolare la Polizia Locale e i sistemi informatici dove avviene appunto il rientro delle funzioni al Comune di Pesaro di questi due settori, Polizia Locale e Sistemi Informatici. È un anche modo per rilanciare l'Unione, per rilanciare l'assetto politico e la governance politica dell'Unione che avrà come strumento in futuro di aggregazione lo strumento della Convenzione. Quindi le funzioni ritorneranno al Comune, solo la protezione civile rimarrà all'Unione dei Comuni, mentre il futuro strumento dell'Unione sarà appunto quello della Convenzione. Già in essere c'è la Convenzione con il SUAP in cantiere quella dell'Ufficio Europe per il riperimento di fondi comunitari. Per quanto riguarda la Polizia Locale, la delibera di fatto recepisce la mozione del consigliere d'opposizione Michele Redelli sull'istituzione del vigile di quartiere. Un servizio che sarà agevolato dal recupero di 11 agenti di Polizia Locale in più al servizio del Comune pesarese nell'arco del 2025. Questa è un'azione politica molto importante perché nelle stesse linee programmatiche la figura del vigile e il corpo della Polizia Locale è un valore aggiunto. Li ringrazio per tutto il lavoro che svolgono quotidianamente ed è un ruolo di presidio, di prossimità, è un ruolo centrale nell'ambito del controllo del territorio, ma anche centrale per tutta una serie di azioni che la Polizia Locale svolge. Con questa delibera noi andiamo anche a aumentare quella che è la nostra capacità funzionale perché ritornando la funzione al Comune di Pesaro noi abbiamo la possibilità di avere una capacità funzionale diversa rispetto a quella dell'Unione. Grazie a tutti.